Oggi ricordiamo Santa Bacchita, la patrona delle vittime della tratta di persone. Mi unisco a voi che celebrate la giornata, la nona giornata mondiale, di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che ha come tema camminare per la dignità e che coinvolge i giovani come protagonisti. Mi rivolgo in modo particolare a voi, giovani. Vi incoraggio a prendervi cura della dignità vostra di ogni persona che incontrate. Ho saputo che siete stati voi a scegliere come tema camminare per la dignità e, molto importante, indica un grande orizzonte per il vostro impegno contro la tratta, la dignità umana. Così potete contribuire a tenere viva la speranza. E aggiungo anche la gioia che vi invito a custodire nei cuori insieme alla parola di Dio, perché la gioia vera è Cristo. La tratta di persone sfigura la dignità. Lo sfruttamento e l'associamento limitano la libertà e rendono le persone oggetti da usare e scartare. È il sistema della tratta approfitta di ingiustizie e iniquità che obbligano milioni di persone a vivere in condizioni di vulnerabilità. Infatti le persone impoverite dalla crisi economica, dalle guerre, dai cambiamenti climatici e di tante instabilità sono facilmente reclutate. La tratta purtroppo cresce in misura preoccupante, colpendo soprattutto i migranti, donne e bambini, giovani come voi, persone ricche di sogni e voglia di vivere in dignità. Lo sappiamo, viviamo un tempo difficile, ma è proprio in questa realtà che tutti noi, in particolare i giovani, siamo chiamati a unire le forze per tessere retti di bene, per diffondere la luce che viene da Cristo e dal suo Vangelo, la luce che simbolicamente sarà consegnata in questi giorni ai giovani venuti a Roma in rappresentanza delle organizzazioni che da anni collaborano per questa giornata di preghiera e impegno come la tratta. Con questo gesto siete inviati come missionari della dignità umana contro la tratta di persone e ogni forma di fruttamento. Si inaugura così un anno speciale di coinvolgimento dei giovani fino alla prossima giornata del 2024, Custodite questa luce e sarete benedizione per altri giovani. Non stancatevi di cercare strade per trasformare le nostre società e prevenire questa piaga vergognosa che è la tratta di persone. Camminare per la dignità contro la tratta di persone senza lasciare indietro nessuno. Vorrei riprendere alcune belle espressioni che avete scritto. Camminare con occhi aperti per riconoscere i processi che inducono milioni di persone, soprattutto giovani, ad essere trafficati per essere sfruttati con brutalità. Camminare con il cuore attento per scoprire e sostenere i percorsi quotidiani per la libertà e la dignità. Camminare con la speranza nei piedi per promuovere azioni antitrata. Camminare dandosi insieme la mano per sostenersi a vicenda e costruire una cultura dell'incontro, che porti alla conversione dei cuori e a società inclusivi capaci di tutelare i diritti e la dignità di ogni persona. Mi auguro che siano in tanti ad accogliere il vostro invito a camminare insieme contro la tratta. Camminare insieme a chi è distrutto dalla violenza dello sfruttamento sessuale e lavorativo. Camminare insieme ai migranti, agli sforati, a chi è in ricerca di un luogo dove vive in pace e in famiglia. Camminare insieme a voi, giovani, per riaffirmare con coraggio il valore della dignità umana. Vi ringrazio e vi dico andate avanti con coraggio, andate avanti con coraggio. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. E Santa Bacchita prega con noi e per noi. Benedico di cuore tutti voi che lavorate contro la tratta e ogni persona che incontrate in questo cammino per la dignità. Grazie. Grazie. Grazie.